musica 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 di bene a tutti ragazzi io sono disius io sono alex non so di quanto si vede chiaro e noi siamo degli schiavi ciao oh c'hai spine bastardo e ci sono anch'io oh oh mi tolto metà mi dà un colo e oggi ci sono anch'io va bene a parte il fatto che alex ha tipo distrutto la mappa però no ecco che sono caduto nella lava e sono morto ma com'è sei serio lol eh non leggi la chat eh di cosa ecco la chat dove posso ucciderlo il villager no non puoi no perchè ha una pozione dell'invincibilità davvero? eh si nooo guarda che sei muore si scambia scambia veloce non riesco a scambiare perchè prende danno guarda che sei no arbuscello di giung e anche di giungla scambia la testa vai oh la testa la voglio io la voglio io la testa di no non c'ho armi c'ho solo c'ho solo il bastoncino c'ho solo il bastoncino io ho la canna da pesca lui è la canna da pesca tu il bastoncino cosa vuoi? anche l'acendino lui è l'acendino lui non è niente ma cosa? forse c'è un arco si io ho un pezzo di terra dov'è l'arco? prendi un pezzo di terra perfetto dov'è la terra? dov'è? dalla presa? dalla farm giù dalla farm giù se no ce lo piantiamo l'albero e bisogna fare abbiamo le ossa non penso ho un buon idea cosa? oh l'arco di cielo ah lo prendo io dove è andato? nottelo io adesso mi si uccido adesso mi si uccido tanto ci abbiamo un'altra margherita eh si raccogli tu ancora 60 cose funzionate comunque adesso che abbiamo fatto questo possiamo tornare indietro ok ma dov'è che stiamo andando? ah già alla cabina ok allora l'ultima volta cece si l'ultima volta cece ha notato se io faccio fuori lo zombie tu spacca si si col bastoncino ah io lo faccio fuori a canna te ma ce la fai a romperlo? eh ciao ok ok ma si fa parkour ah! torch non abbiamo non abbiamo le torce 150 torce ci penso io oh terra terra e carbone stai scherzando? terra e carbone? no no ci penso io sponer danni una figata assurda oh che bello no eh ma dai noi mettiamo a morire no no dobbiamo metterci in una posizione favorevole ma allora io vorrei solo capire perché mi avete colpito con le botte e se no mi passate davanti sotto ragazzi lo spawner come faccio a romperlo? ragazzi è a mano no metto le torce dove si senior fish a mano che li ho visti no ci sono gli spawner però finitendo ah ok io ho finito le torce se io ho io 50 ti ho detto devo sparare con le frecce si ma non lo puoi raccogliere ti ricordo? è vero non abbiamo niente pecchialo 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 vengo il tuo soccorso ammazzone ma prendi le rottenflash che scambiamo con il tizio guardate io ho definito il cibo giù ho già visto una chest io però aspettatevi cazzo se no aspetta che amassi i tizi no purga merda purga merda purga merda sai che c'è esc disconnetti vero? si in poche parole ecco perché non ti abbiamo dato la testa ho bisogno di penso se avevo la margherita qualche materiale la margherita eh io devo cercare di raggiungere la roba di Ale perché ha parecchia roba tra cui ma c'è la morte ma non avevo niente avevo le torce ecco quello serviva hai detto poco con avevo niente e aspetta con i due di terra ok eh ragazzi qualcuno di voi prendi la crowston che rilica eh non c'è niente ma attento adesso vengo io spacco i culi e io sto finendo le fre- schelle dove è la mia roba? allora si può fare così si può fare piano con cane wow c'è sta c'è sta e l'ho vista c'è sta oh piccolo piccolo è una fortuna piccolo è una fortuna ma dove? dai una mano stai finito? stai ammazzando lo scavo non hai le torce quello serve ma c'era la scaretta per scendere però eh ho visto che c'era la scaretta per scendere sto cercando di impiazzare le torce ahhh tantissimi aiutami hai visto cosa di meglio? eh eh hai detto niente io ho un arco oh ho preso il piccone sei riuscito a prenderlo è la mia roba quella eh vabbè te la ridiamo dopo aspetta ho i picconi aspetta aspetta c'è stato io a trovare le robe oh ma come sei stato? tu sei un deficiente hai preso le robe e sei pieno la cesta è vuota la cesta è vuota perché ho trovato dentro una pala ok ho trovato dentro una pala e 16 di terra e che hai picconi ragazzi ho i picconi? vado a spaccare gli spugni ehm no aspetta quello lì a fortuna serve per per il carbone per il carbone no no ce n'è uno di pietra ah ce n'è uno di pietra vabbè eh ma con fortuna è meglio sì ma aspettate con fortuna è meglio eh ti serve del cibo? eh ho due rotelle più che altro avete delle frecce che io ne ho solo 6 per il browblade e non basta mai nella vita ce l'avevo io le frecce sono esplose simo 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 dove? qua cece si è inseguito da un siluotrish giubino frecce stanno cadendo cesta cesta undici non sono molte vuota occhio alle 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 dammi le roba non c'ho niente eh uccidi il siluotrish eh mano eh sì qualcuno dal cibo non è niente ho l'arco ma prendere cose ok non è che magari è cresciuto no eh secondo te ho mangiato un po' di schede e però abbiamo 32 di terra no 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 non è accresciuto allora andiamo a fare vuole delle torte perché c'è cibo no l'ana arancione e pitiful car quale? cos'è che hai detto? allora a voti arancione torte torte magenta o blu? cakewalk cakewalk torte per il cibo cakewalk esatto l'ho detto anch'io è per quello che ma chi è che tu sei senza armatura senza niente ma cazzo mene ecco perché non c'è ma c'è già la torte ma c'è già la torte guarda non l'avevo ancora visto allora io non vado ma di differenza tua ma io ho solo guardato cosi eh ma spacchiamo sto cartello c'è un problema di cibo mi intende dire che non possiamo piazzare torci sulle torte quindi torcificate tutto eh? spawnono torte eh? scusate c'è lo spawner di torte ma c'è sta guardate lo spawner di torte creeper scheletri aah scheletri torta oh scheletri torta scheletri torta scheletri torta scheletri torta scheletri torta torta scheletri torta almeno non abbiamo problemi di cibo si quello è finito di te ho delle ossa sto andando a non ti danno le ossa a sti scheletri aah scheletri torta scheletri torta oddio chi mi ha dato fuoco non ditemi che sono stati gli scheletri perchè non ci credo a chi li fa non è crescita avete rotto il spawner oh scheletro immortale oh oh sono buggato è immortale sto scheletro torta aspettate ragazzo sono buggato sono buggato guardami ascoltatemi un secondo ascoltatemi un secondo ti ascolti ma aiuto perchè io ho perchè io ho tre blocchi di stai zitto un attimo perchè io ho tre blocchi di quarzo casellato perchè sposo il creeper e tutto questo coso è nato di quarzo sono un creeper ahahah guardate un fuoco mi metto nella cesta perchè mi hai dato fuoco oh 9 ossa comunque non l'ho fatto apposta eh ragazzi ah ma ho capito perchè eh lo ho capito per cosa chi? mi spawnerò guardi oddio anch'io delle ossa ah comunque ho capito quello degli errori perchè in pratica le torte si ah scusate perchè che buco e se vuoi è tantissimo ragazzi siamo impazziti e doveva essere semplice questo dancio notano ok la smessa la smessa di dobbiamo rompere tutti gli spawner qual'è il problema? subito ho provato una cesta ma non lasciate datemi una mano dobbiamo rompere tutti gli spawner venite qua vengo vengo ho anche un pistone io non ho io un piccolo di rete non si rompono mai nella vita datemi una mano io ho quello di pietra ho un altro quello che non capisce siamo un altro spawner ragazzi vediate una mano no grazie eh perchè sento anche l'hava e non mi piace dove siete? sto cercando di spaccare lo spawner aspetta sono piccone e spacco io ti ritiro via ah ecco la lavora che sento magari se non mi colpite mi fanno piacere chi ha rotto la torcia? uh c'è sta guarda la cesta c'è un po' di lava ci ho visto aspetta no 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 la lava porca merda fanno pure oh mio addirno tutti voi state guardando eh fritch ah cibo cibo tieni no no ti stavo per dare il cibo eh scusa Simo colpa mia chi? eh mio infatti io sono vivo e morto perchè ho frecciato io scusa a me hai frecciato no ho frecciato Simo se vedi c'è scritto è morto con blue bow blade infatti è mortuale non so meglio ah scusa pensavo fossi tu ero io mi hai imbazzato ma mi scusi non ho mica fatto apposta beh comunque se abbiamo problemi di ossa penso che non ci vedremo più sono nella lava oh mio addio ragazzi ragazzi sono nella lava ragazzi sono ah fa una raggiata incredibile sono nella lava è bella la lava che faccio molto bella interessante fu cosa non andarci neanche io aiuto non andarci neanche io l'italiano perchè c'è una torta qua? perchè era quella all'inizio ok sono vivo sono vivo perchè provi a piazzare una torta cioè piazzavo no io non dico niente aspettate mi ritorno oh ti hai metti perchè? perchè la mia perchè? no vettelo in culo ale eh ne ho 47 nel costo eh sto giocando ai miei piccari a pugni io torcifico i lati ripicchio 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 una cosa sembra che te la torta sugli scuri non serve molto eh è vero che sono difficili ah ma vedi sparisce la torta non c'è tutto sparisce eh ma perchè sono fatto per mimetizzarsi per quello che diceva all'entrata eh non c'è non tutto ciò che è buono è bello Ale volete fare un ponte con i blocchi di vetro? sono dei blocchi di vetro si quasi quasi no quando fanculo non ditemi che hanno velocità no 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 hanno velocità ecco come fanno ecco perchè se noi corriamo ci prendono vabbè l'uscità velocità no 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 velocità no 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 corri 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 Now mi servono frecce ecco le qua occhio non passatemi davanti c'è Marco servono anche a me le frecce eh pure io ce l'ho eh si colpitemi a casa ce ne sono tante eh ma anche qua te ne sono tantissime eh lo so ma per cosa? cioè voi stavate a lasciare ma qua non torciate eh infatti anche qua appena ho spawnato uno scheletro in parte a me mi sono spawnati 47 uno scheletro non torciato uno testo di scheletro la voglio no è uno scheletro è quello che ti dicevamo io essendo prima sono bagato di nuovo ma almeno che spawnano in mezzo all'alto come fanno questi qua? bisogna mettere nel torci eh grazie ci sto provando si è accorto solo adesso? non so se hai notato infatti tu tu sei andato avanti poi sei morto avanti e adesso stiamo cercando ho due cuori oh mio dio mi ero baggiato in un punto no ho mezzo cuore mezzo cuore non mi c'è non mi c'è non mi c'è via 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 di un personaggino di minecraft io ho trovato la cesta è quella che avevo trovato io dovete torciare ragas è quello che stiamo facendo è un enderpearl ho preso l'alluminito dove dove? non riesco a posizionare blocchi ah 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 non riesco a posizionare blocchi perchè il creatore deve fa stronzo e fa le cose in slab e spacca di turpe sono in un tunnel, boh solo che ho mezzo cuore e non ho cibo cibo lo spawner qua, lo spawner qua, torno indietro torno indietro, torno indietro no, 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 merda ma fagolo potrei morire no, ah, erano quello da non riesco a uccidere quello con la torta è una cosa incredibile le torte d'ora in poi saranno il mio peggiorno no, salto io odio le torre ma dopo un po' la perdono la torre tra parentesi si, si, è l'intersezione dopo l'ho già trovata è molto interessante è una zona sicura molto interessante, mi fa molto piacere a me se solo ci fosse del cibo ah, eh, sei già all'intersezione ci sono delle flash oh, 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 oh guarda se c'è il di trasporto no, mi son bugato, mi bugo, mi bugo guarda se c'è il di trasporto non lo so, ma ne continuano a spawnare portamelo via, portamelo via ma sta morendo per cosa ho ucciso lo spawner ho ucciso lo spawner ho ucciso lo spawner c'è la roba occhio perché a un certo punto ci sono delle flash oddio, ci ho visto la lava c'è lava dove sei morto? più avanti in fondo al tunnel ah, ok, c'è un buco occhio, occhio perché c'è un buco con le flash io ho saltato da un'altra parte mi fanno tutti sti cosi non capisco e la mia roba è lì ok c'è del ghiaccio e davanti a te vedi un'intersezione si l'ho presa ma sei pieno di mob ma qualcuno, ah c'è una spawner qua no, mi son bugato, mi son bugato, mi son bugato, mi son bugato, mi son bugato l'intersezione fa schifo è più pericoloso l'intersezione che i dungeon giuro? ah, lei è morto si, si, giuro e sai perché? perché tu vai avanti non pulisci e quindi muori ci sono due, ci sono due, ci sono due aspetta, bacino, bacino bacino e dove siete? dove siete? non vi vedo siamo dietro si ma c'è uno scheletro dietro c'è uno scheletro dietro ah, cazzo scusa, scusa, scusa oh, dio che faccio qua lo spawner? ce ne uno da? lo spawner neanche torta ho un cuore mezzo, ho un cuore occhio, non metterti davanti mai a me ecco, ci sono 32 bistecche qui dentro aiuto no, no, no sei morto mi son buggato eh, mi ha colpito a me Simo scusa ho perso tutto eh, anche noi abbiamo perso tutto ma io avevo la roba importante voi ne avevate un cazzo che roba avevi? tutta l'armatura, gli stivaletti in davanti la lana l'arco oh, ma allora volete capire che non dovete andare alla lana ma dobbiamo ripulire ma io sono dentro che cala va bene, ok, allora se Ale riesce a tornare indietro ce ne andiamo andiamo in dungeon più semplice esatto aiutatemi però ecco, io ho aiutato di cosa? non fiora eh si fiora la cesta in parte agli spawner posso ritornare indietro, ho ripreso la roba ah dove si va? si, vai vai, torna indietro ho preso anche un bimbo abbiamo la lana ho preso 64 biscotti ho preso 64 biscotti ho preso 64 biscotti dalla mera vieni vieni e sono giù alla fan guarda guarda la lana guarda la lana dove sei? do l'arco di voi anche il piccolo affrontiamo le carote non le patate no dove sei? mettila alla ender chest cos'è sta musica? hai messo su sim il cd che è il riper l'ho messo su senti è troppo bello il cd dal criep ma davvero? cd dal criep si dove sono le patate? eh sentiamola va bene ragazzi io direi che per questo episodio si può concludere qua abbiamo sclarato più cosa ufficiale questo episodio quindi ci vedete in commento 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 salutale ciao sto geniato in caso ciao